Ciao a tutti, come sedurre dando l'illusione della scelta? In questo video voglio spiegarti come puoi sedurre dando l'illusione della scelta. Allora, la seduzione si può manifestare in modi diversi. Ovviamente quando tu vuoi sedurre, diciamo così, devi far sì che l'altra persona creda di aver fatto una scelta, creda di essere lui o lei ad aver scelto. E con questa tecnica potrai dare l'illusione della scelta. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere tra diversi livelli, cioè abbonando ti potrai partecipare a delle live e darmi delle risposte e farmi delle domande alle quali io darò delle risposte precise in apposite live. Quindi questo è molto importante. Se vuoi ottenere delle risposte, abbonati al canale, il corso è veramente esiguo. Allora, e veniamo al tema. Come sedurre dando l'illusione della scelta? Dicevo che le persone hanno bisogno di illudersi, di poter scegliere, hanno bisogno di illudersi, di poter fare la scelta giusta nella loro vita per essere, diciamo, sentirsi forti, sentirsi bene. Quindi una tecnica è quella proprio di dare l'illusione della scelta, utilizzando i presupposti. Che cos'è il presupposto comunicazionale? Che è una tecnica di Milton Erickson. È proprio la capacità di dare l'illusione di scegliere e la persona si troverà in una situazione in cui crederà di aver scelto. In realtà non ha scelto nulla perché gli è solo dato l'illusione della scelta. Ma questa può essere utilizzata in qualunque situazione della vita. Ad esempio, potresti dire a un tuo amico ma preferisci una birra o va bene il vino? Gli dai l'illusione della scelta, ma in realtà il presupposto di fondo è che beve, che berrà qualcosa. Puoi utilizzare, ad esempio, un'altra strategia nella seduzione. Potresti dire all'uomo che ti interessa hai qualche programma per Wilkend? E lui potrebbe dirti no. Ah, vabbè, allora si potrebbe scegliere tra andare, che ne so, a fare una passeggiata al mare o andare bla bla bla. Cosa preferisci? Cosa ti va di fare? Eh, gli butti lì la cosa è come dando l'illusione della scelta. Poi potresti anche dire ma preferisci che ci vediamo prima di pranzo o così pensiamo assieme oppure direttamente alle due e mezza, non lo so, al 14 e 30 per dire dai di nuovo l'illusione della scelta. Alla fine lui crederà di aver scelto tutto ma in realtà tu hai pilotato la situazione sulle cose che ti interessano. Quindi e non sembra neanche che fai una richiesta perché tu gli dai l'illusione di aver scelto. Quindi non ti poni come richiedente, ti poni come una persona che gli dà appunto l'illusione di aver fatto una scelta, di aver scelto. Ecco questo è quello che devi mettere in atto e quello che devi che puoi utilizzare diciamo per raggiungere i tuoi obiettivi. Questo è fondamentale. Dare una scelta apparente serve perché la persona si sente libera si sente libera di aver deciso ma in realtà ma in realtà non ha deciso assolutamente nulla. E questo è fondamentale perché intanto evita molto il no perché comunque dando l'illusione della scelta la persona non si sente pilotata non si sente governata diciamo e quindi imparare ad usare questa strategia è veramente fondamentale un apprendimento fondamentale nella seduzione per diciamo per riuscire a conoscere veramente la persuasione e la seduzione. Bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare abbonandoti potrai scegliere tra ben quattro livelli di abbonamento abbonamento live per partecipare alle mie live e abbonamento base per lezioni mirate abbonamento top per lezioni mirate videoregistrazioni seminari dal vivo e poi c'è l'abbonamento Master Consulting che ha in più una consulenza telefonica per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo ciao